46 Gustav Klimt Cerchio Exodus attraverso Mauro G. Entità Camilla Questa sera abbiamo fra noi uno che fu un noto artista nel tratto della mano che regalerà ad ognuno di voi il medesimo disegno ma con qualche piccola differenza. Ognuno ne avrà una copia che non è una copia ma un unico. Questo anche per dimostrarvi che non è una copia ma un originale che può esprimersi diversamente. Concentratevi. Dopo circa cinque secondi. Fatto. Lo strumento in trance fa il giro del tavolo e distribuisce ad ogni partecipante dei disegni nel buio più totale. Entità Camilla Andiamo per ordine. Questo a L, poi a L e S, poi a T, a G e M, a R, a M e T, ad A. Ne abbiamo uno in più. Domanda, forse è per l'altro mio figlio? Entità Camilla No Per l'altro tuo figlio c'è un messaggio che abbiamo appena scritto e che lasciamo qui, al centro. L'altro disegno lo diamo alla nostra cara amica L. Fatta luce, i partecipanti ritrovano diligentemente, posto davanti a ciascuno, un disegno eseguito appena e firmato Gustav Klimt. I sette disegni rappresentano tutti una donna nuda ma differenziata per ogni persona a cui il disegno è stato donato da piccoli particolari grafici. Grazie a tutti.